La politica ora nella maggioranza confronto su agenda di governo e alleanze per le regionali. Priorità, taglio delle tasse e lavoro, ma resta il nodo sulla riforma della prescrizione. Ce ne parlano Francesco Maesano e Andrea Bovio. Avanti con la fase 2 del governo. I 5 Stelle ribadiscono la linea a partire dai loro temi cardine. Lavoro, abbassamento dell'IRPEF ed economia sostenibile. Abbiamo già aumentato gli stipendi per 16 milioni di lavoratori che da luglio avranno fino a 100 euro in più in busta paga. Adesso lavoriamo per abbassare le tasse alle imprese, per introdurre il salario minimo e per la riduzione dei tempi del processo. E' quello che ci hanno chiesto gli italiani. Nei 5 Stelle dibattito aperto sul rapporto con i DEM. Lombardi rilancia questo PD, parla la nostra lingua, mentre Crimi avverte la capogruppo del movimento in comune a Pesaro sull'incompatibilità della sua entrata nella giunta guidata dal DEM Ricci. E il sindaco PD replica sarebbe come chiedere a tutti i ministri 5 Stelle di autosospendersi. Zingaretti definisce intanto la lettera delle Sardine a Conte uno straordinario contributo, pongono, sottolinea, un'esigenza che merita risposta. E i DEM rilanciano. Con la finanziaria abbiamo impedito l'aumento dell'IVA e lasciato più soldi nelle tasche di 16 milioni di lavoratori. Adesso serve accelerare per riformare il paese, serve un campo largo che abbia come priorità scuola, lavoro, ambiente e sviluppo sostenibile. Nella maggioranza resta il tema prescrizione, nuovo vertice la prossima settimana e dopo le polemiche il guarda sigilli Bonafede si dice pronto al contraddittorio con gli addetti ai lavori. Dal palco di Cinecittà Renzi chiude la due giorni Italia Viva rilanciando l'agenda del partito. Priorità la crescita dell'economia insiste, dobbiamo sbloccare i cantieri, far ripartire il PIL. C'è il sostegno al governo, sicura, appoggio forte ma non incondizionato. Il primo paletto è la prescrizione, su questo non molliamo a ferma o si proroga di un anno la riforma Bonafede oppure in aula voteremo contro. Dico al ministro Bonafede fermati finché sei in tempo perché noi in Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto sulla prescrizione. E non avete i numeri senza di noi al Senato, forse neanche alla Camera. L'obiettivo, dice Renzi, è quello di radicarsi sul territorio. Primo banco di prova per misurare il peso del neonato partito saranno le prossime regionali. Italia Viva ci sarà con le sue liste a differenza di quanto accaduto in Emilia Romagna e Calabria. Da domani, annuncia, partirà il primo dei nostri camper, sei in tutto, per attraversare le regioni al voto e tornare in mezzo alla gente. Centro-destra critico su economia ed immigrazione. Il governo riapre i porti e attacca Salvini per il leader della Lega dopo il caso Gregoretti. Nuova richiesta di autorizzazione a procedere per la vicenda Open Arms. Virginia Luzzito. Salvini lancia l'affondo al governo sull'immigrazione. Porti riaperti come a Pozzarlo per la gioia dei trafficanti. A gennaio sostiene sbarchi aumentati del 700% e dopo la richiesta di processo, anche per il caso Open Arms, ad agosto rivendica da ministro difeso i confini qualche giudice fa politica. Anche perché di sbarchi ne avrò bloccati, vado a memoria, 30, 40, 50. Mi valgono 50 processi? Mi costano 50 processi? Sapete cosa vi dico? Per me sono 50 me, da, gli è. Meloni, fratelli d'Italia, in calza sul fisco. In arrivo una mannaia su detrazioni immobili e IVA da PD e 5 Stelle, terrore fiscale non più sostenibile. Sulla prescrizione Forza Italia da battaglia, la riforma a buona fede o proprio incostituzionale, anche per presidenti di corte d'appello e procuratori generali, va fermata. Rilanciano gli azzurri, pronti a chiedere il voto segreto sulla loro proposta a firma Costa. A un governo che fa calare l'economia al di là di ogni previsione, vuole processi senza fine e trasforma i cellulari degli italiani in spie nelle loro case, noi diciamo basta, il troppo è troppo. Contro lo stop alla prescrizione è anche più Europa. Non c'è niente di progressista nel Contebis, quando ad esempio sulla prescrizione la maggioranza segue l'agenda del populismo giudiziario vendicativo del Movimento 5 Stelle. Il presidente Conte ha appena commentato la scoperta dello Spallanzani che ha isolato il coronavirus. Un grande applauso, scrive il premier, siamo orgogliosi del nostro sistema sanitario. Conte questa mattina era anche intervenuto sulla piaga del femminicidio. In Italia si è compiuta una strage, un bilancio orribile. Renderemo il codice rosso più efficace, ha detto, ma non è sufficiente. Lavoreremo sul piano culturale e sulle scuole.